Buongiorno Sio Luciano? Sì. Senta, la ditta New Corn, ecco, sono il signor Cornelio Bove, c'era una Cornigliano. Senta Sio Luciano, ci hanno detto persone che la conoscono molto bene, persone di famiglia sua, eccetera, che lei comunque ha delle belle corna, insomma, e noi vorremmo, per far entrare lei nella nostra ditta, diciamo, noi facciamo riparazione e manutenzione delle corna, insomma, le diamo subito in omaggio un elegante portacorna da viaggio. Ecco, poi lei, se vuole, quando vuole, può venire da noi o anche noi veniamo da lei per la manutenzione giornaliera, mensile, annuale anche. Ma quella che in caso ci pensa la mia moglie. Per un ampliamento delle corna noi siamo disponibili. Se le corna me le fa, me le farà sempre meglio. Ecco, sì, certamente, ma se lei le avesse troppo piccole di quelle, diceva, guarda che cornina se non vale nemmeno la pena, no? Noi ampliamo. No, ma tanto se me le fa più grosse vuol dire che ce le fa più. No, appunto, ma se lei mi chiedesse un ampliamento delle corna, noi tromberemmo molto sua moglie, verrebbero le corna enormi, capito? Noi abbiamo delle persone adatte, cioè. Ma mettitele nel culo le ho andate a me, vai. Ma cosa nel culo? Ma cosa c'è? Ma chi sei, deficiente? Sono il signor Cornelio Bove. L'ha detta New Corn, noi facciamo manutenzione delle corna, riparazione. Eh, bravo, sì. Allora, non sai dove te le devi mettere? No, perché il signor... E pesca la tua mamma. Ma come si permette? Pronto. Ecco, e se lei non fosse sicuro nelle sue corna? Noi abbiamo degli speciali specchi, lei si guarda quello specchio speciale e vede se ce l'ha o non ce l'ha, capisce? È molto importante. Capisce? Sì, ho capito. Beh, io sono il signor Cornelio Bove, devi vedere, capisce? Sono, insomma, da anni che lavoro nel settore. Ma noi ci sta da far qui, ma io ci vorremmo buttare le palle. No, se ne volessi... Perché tra l'altro io... Sì. Ora c'è un sistema ma chi ha la SIP si sa anche chi telefona. Ah sì, c'è un sistema? Me lo dica, me lo dica, come si fa? Come si fa? Me lo dica, me lo dica. Ma vai a far culo te tu, ma vai. Ma ma come si permette?